Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno forte, lo abbiamo visto con l'arrivo di qualche temporale. In stabilità anche nella giornata di giovedì 13 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile. Avremo rovesci sparsi dapprima sulle zone montane, poi anche in pianura. Migliorerà un po' dappertutto entro la notte. Clima ancora caldo, ma con valori in moderata diminuzione. Temperature minime tra 17 e 24 gradi. Massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo precipitazioni un po' dappertutto, alternate a schiarite. Qualche temporale potrà essere anche forte, inserata a tempo più stabile su tutte le zone. Temperature minime tra 20 e 24 gradi. Massime sui 29 e 31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo probabili rovesci e temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi. Massime sui 30 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene.